l'ultimo video di calcetto per stasera l'ultimo video di calcetto per stasera vi presento la maglia di alfred il pollo e il gioco di alfred il pollo eccolo qui il gioco e la maglia vi faccio vedere il nostro palleggio esecutivo e iniziamo il nuovo video di calcetto stavamo dicendo che paolo di bala che sarà la juventus non si chiama nemmeno un gollo non sape giocare e mertens nemmeno sape giocare mertens per non parlare di leon messi e stevanisciarawi e gli altri giocatori stiamo facendo un video rispetto a questi giocatori mertens non sape giocare che va nel napoli e dice che ci paolo di bala cioè poi ci sta mario balotelli è proprio scasso non sape giocare e quindi pure se vanno nella serie a non sapevano giocare il palleggio il nostro video sta venendo ad effetti il palleggio io non posso andare a linea ma almeno prendo il gioco e il ciclo è il numero che faccio qualcosa e il palleggio ma quando stanno a scelto è uscito il palleggio e la medicina Quando sta siamo minuti e 54. La zanzariera fa molti rumori e che stavamo dicendo Mertens non sanno giocare e di balla facendo solo. Ci usate, se dico queste cose, contro i giocatori del Napoli e della U.N. Solo Stefano Sciarali sape giocare un poco meglio e Ballotelli, a Leggio. Facciamo il video a Leggio, Sacagnola, Paolo Di Bala, va pazzia, Mertens, Dion Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo che va nel Real Madrid, dice che non sape giocare, però sono fiesta figliore, che non segna in un gol da 50 anni. Scusate il telecamera, sta a tre minuti, vi faccio vedere la maglia di Alfred il pollo e il gioco di Alfred il pollo. Grazie per averci assistito nei video di calcetto. Ciao ciao. Vuela! Grazie per averci assistito. Grazie per averci assistito.